Posso toccare con mano l'immenso oceano atlantico. Gambia, saluto Faiara. Ci sono accorti di un murale. Gambia, una spiaggia bianca incredibile. Lini di Nanga, le palme di Cotti, il cenano atlantico. Chilometri di spiagge di sabbia bianca, il cenano atlantico che spacca. Cammino sulla spiaggia che ho tutto in mano nell'oceano atlantico. Un saluto ai murales di Cotti. 7. 75. E' forse il posto più frequentato nell'oceano atlantico. Stanco il cagnolino. Gaglia incredibile. Un saluto. Sono a Seregunda. Sempre impossibile. Market di Seregunda. E' il traffico di Seregunda. Market di Seregunda. Il torno nel market di Seregunda. Cammino nel market di Seregunda. Cambia. Cammino nel mercato di Seregunda. Cattolino nel mercato di Seregunda.